Manca solo la tua firma e per noi è tutto a posto. Sei ufficialmente una discepola della God's Promise. Benvenuta. Cazzo. Il cambiamento avverrà attraverso Dio, ma dentro di me. Me. Non esiste l'omosessualità, esiste solo la lotta contro il peccato che tutti dobbiamo affrontare. Prima praticavo l'auterotismo, ma poi ho capito che era peccato e così ho smesso. Devi considerarti parte della famiglia, Cameron. Può chiamarmi Cam? Cameron è già un nome sufficientemente maschile. Abbreviarlo lo renderebbe ancora meno femminile. Ma che gliene frega a lei? È un po' come una strega cattiva. Se ti masturbi ti lancia il malocchio. Non puoi chiedere addio il permesso di masturbarti. Te l'abbiamo chiesto. Neanche ti conosco, ma mi basta un'occhiata per capire che sei lesbica. Il primo passo è smettere di considerarti omosessuale. Io non mi considero omosessuale. Io non mi considero un bel niente. Fanculo questo posto. Sono stufa di provare disgusto verso me stessa. Non avete idea di quello che fate. Non mettila! Grazie!